Una terza tendenza del mercato che evidenzia il cambiamento dei modelli di business, stimolato dal nuovo sistema digitale, è la nascita di nuove forme di partnership tra produttori di contenuti e i nuovi operatori della piattaforma internet, i cosiddetti over the top, che sia direttamente che in qualità di aggregatori si pongono il comune obiettivo della garanzia della titolarità o qualità dei prodotti in rete. Ne sono esempi tra l'altro l'accordo tra SICEM, associazione degli autori, compositori e produttori musicali francesi, e Netflix per la gestione collettiva dei detti delle opere su web, e l'accordo tra Google e otto grandi editori europei, la cosiddetta Digital News Initiative, per sostenere e promuovere il giornalismo di qualità in Europa attraverso tecnologia e innovazione.